Buonasera, siamo qua a Napoli, Piazza Carivaldi, abbiamo avuto anche questa sera la grazia di portare un pasto caldo ai nostri fratelli senza tetto e una bella sfogliatella che loro hanno molto apprezzato. Ringraziamo il Signore e cerchiamo sempre di guardare nel volto di questi fratelli più poveri il volto stesso di Cristo. Gesù ha detto quello che avete fatto a loro lo avete fatto a me e un giorno questi poveri ci apriranno la porta del Regno dei Cieli. Dio vi benedica a tutti quanti, buonanotte. Grazie.